Sono Laura Antichi, vi voglio presentare DotStorming. Che cos'è DotStorming? È una bacheca interattiva che permette il brainstorming delle idee. Con un processo poi di votazione, consente ai gruppi di persone di collaborare su un argomento. Bisogna naturalmente creare un topic in DotStorming, dopodiché si invitano dei partecipanti e ciascuno può aggiungere le sue idee e votare le idee che gli piacciono di più. È un modo per condividere testi, immagini, multimedia. Contiene anche una chat. Le persone possono essere invitate mediante l'invio del link. Gli invitati possono partecipare aggiungendo idee, votando e comunicando in chat, come dicevo, anche senza essere registrati. Dovranno solo mettere il loro nome. Le votazioni permettono di avere un ranking, una statistica delle idee più gettonate. Quindi potrebbe essere utile nelle discussioni che gli studenti fanno nel lavoro di gruppo per procedere, ad esempio, nella produzione di un artefatto. Si può configurare il numero dei voti che ciascuno ha a sua disposizione per votare. Per aprire una bacheca, però, bisogna registrarsi. Potrebbe aprirla il docente per far interagire gli studenti con le loro idee e proposte e dal momento che non prevede una registrazione da chi è chiamato a partecipare, è molto adatta per giovani studenti. In un'EAS rappresenta la possibilità di un brainstorm interessante a distanza ed unisce la funzione importante del commento e richiesta di delucidazioni in chat. Io sono già registrata e quindi faccio login e devo aprire Add e Topic. Qui è presente un altro topic che ho appena fatto. Vado in Add e Topic. Il Topic potrebbe essere Considerazioni sul terremoto. Poi potrei mettere una descrizione che è opzionale argomento, scrivo, di scienze. Potrei qui fare una cosa più intelligente mettendo le competenze, ad esempio, di riferimento per svolgere questa attività. posso selezionare il numero di voti consentito che consento alle persone come vedete, lascio comunque tre voti e poi posso decidere se condividere questa bacheca con il link oppure con un invito per mail. scelgo con il link vado in Create e in questo modo ho creato la mia bacheca sul terremoto vedete che ciascuno ha tre voti disponibili e in alto, accanto al bottone Share trovo il bottone Add an Idea e an Image vado a cliccare su Add an Idea e mi si apre una casella in cui posso scrivere il primo mio post cos'è un terremoto moto ad esempio ok e poi aggiungo dell'altro testo faccio Add e vedete comparire questo post che può essere votato attraverso il pulsante Vote for this aggiungo ora un'immagine Add an Image seleziono l'immagine da prima quindi avevo già preparato le immagini seleziono questa immagine ok, apri metto una descrizione dell'immagine potrei mettere molte cose adesso per velocità metto terremoti terremoto 2016 ok clicco su Upload e vedete comparire anche la mia immagine che può essere naturalmente votata alla vostra destra trovate la chat gli studenti potrebbero i partecipanti potrebbero fare delle domande dare delle risposte insomma chattare quindi è interessante e possono come dicevo prima votare ho naturalmente la possibilità di rendere la board questa bacheca editabile e poi di rendere possibile di attivare le votazioni come vedete sono questi attivi questi bottoni potrei anche non permettere votazioni o l'editabilità della board e qui ho anche il rank quando ci saranno i voti dei voti e quindi la statistica delle idee posso ottenere la statistica delle idee più votate posso condividere posso condividere poi questa share la bacheca mandando il link a quelli che voglio che partecipino e posso anche utilizzare il codice embed per incollare questa bacheca nel mio sito chiudo questo ok volevo farvi vedere per l'appunto che ho incollato il codice embed nel corso che sto facendo per far provare la bacheca direttamente nel corso ai docenti che sono in formazione questa bacheca riguardava gli schemi mentali e siamo in ambiente a Moodle buonasera a tutti